Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno Diego, sì, hai ricordato Vigilia di Milan-Napoli e Rafa Benitez parla in esclusiva ai nostri microfoni. Signor Benitez, io riparto da mercoledì. Lei in conferenza stampa, ieri qui, disse, mi aspetto da questa sfida con lo Slovan di Bratislava, la vittoria. Il primo posto è il ritorno di Marek Kamsik. Direi che la squadra l'ha accontentata in tutto ciò che lei aveva chiesto. Sì, loro hanno capito che era importante farlo bene e credo che abbiamo visto una buona partita. Poteva essere, io dico sempre, anche meglio, ma 3-0, la squadra sempre controllando la partita e abbiamo avuto anche più occasioni. E devo essere soddisfatto, ma sempre con questa idea che si può fare anche meglio. Napoli quindi qualificato ai sedicesimi di Europa League. A Neon lunedì il sorteggio. Sono 13 le possibili avversarie. E' chiaro che tutti siamo portati a pensare, nelle 13 c'è il Liverpool nel caso, ma facciamo gli scongiuri. Per lei sarebbe una sfida speciale. Sì, chiaramente mi piacerebbe per vedere tanti amici, ma non mi piacerebbe perché uno delle due deve andare via. Credo che non è giusto per me vedere una squadra che ho nel cuore come il Liverpool perdere con il Napoli adesso. Credo che è importante... Magari più in l'Amist. Sì, la finale per esempio. Se cerchiamo la finale con il Liverpool, io sono contento per tutte e due. E' disponibile a farla perdere a quel punto il Liverpool. Lei dice sempre partita per partita. È chiaro che noi siamo portati però a guardare a questo miniciclo. Tre gare prima della sosta. Cominciamo da Milan-Napoli. E cominciamo da Milan-Napoli della passata stagione. A San Siro il suo Napoli incantò, fece davvero una partita pazzesca. Il gol di Britos, occasione, il raddoppio di Higuain. E' quello il Napoli che vuole vedere e vorrà vedere domani sera? Sì, certo. Credo che è stata una partita bellissima. Non dire perfetta perché loro al secondo tempo hanno messo in difficoltà la nostra difesa. ma credo che abbiamo fatto una grande partita in un stadio di massimo livello che a tutti i giocatori le piace giocare sempre in questo stadio e farlo anche bene. Mancherà Cristian Maggio. Mancherà Maggio perché è squalificato. Ovviamente non è nell'elenco dei convocati. Ci dobbiamo aspettare Enrique o Mesto? Perché noi siamo sempre lì a ipotizzare la formazione. Sì, abbiamo lavorato questi giorni con tutti e due. Aspettiamo, vediamo. Chiaramente ancora non abbiamo deciso. Sempre in questo tipo di situazione parliamo tutte le staff e ciascuno dà la sua opinione e dopo decidiamo tutti insieme. Classifica alla mano, il Napoli è quinto. Ed è chiaro che tra i grandi obiettivi del Napoli c'è quello di rigiocare la Champions League. E' un obiettivo anche del Milan. Addirittura ieri c'è stato Berlusconi a Milanello e ha detto noi possiamo arrivare terzi, possiamo centrare la Champions. Ecco Benitez, voglio chiederle. Siccome mi sembra chiaro che le milanesi vorrebbero mettere le mani sul terzo posto di Champions League, il business impone di andare in Champions per gli introiti. Il Napoli deve guardarsi più dalle genovesi o più dalle milanesi? Più da noi. Credo che noi, se facciamo quello che sappiamo che possiamo fare, arriviamo al terzo posto o mai si sa dove possiamo arrivare. Credo che anche di più se lo facciamo bene, se gli altri non lo fanno al suo livello oggi. Ma io ho fiducia che questa squadra ancora può crescere, ho fiducia che al di là di quello che può succedere questi giorni, dopo la seconda parte del campionato la squadra sarà ancora più forte. Lei ha detto terzo posto o magari anche qualcosina in più. E' chiaro che il Napoli, mi sembra evidente, pagò all'inizio della stagione quell'eliminazione dai preliminari di Champions. La Roma potrebbe anche averlo. un contraccolpo psicologico perché anche la Roma voleva andare avanti in Champions e invece il City è stato più bravo. Sì, veramente credo che la Roma ha avuto un periodo di difficoltà, che ha avuto la partita con l'Atalanta, difficile anche l'Inter. E questo tempo che hanno vinto queste partite hanno mostrato il suo carattere, un po' di fortuna. Dopo essere fuori della Champions poteva essere un colpo, hanno superato questo momento ma vediamo che succede più avanti. credo che loro sono forti, questo è chiaro, ma noi dobbiamo giocare al nostro livello, avere più continuità e sarà più facile vedere la nostra squadra più vicina a loro. Torniamo a Milan-Napoli. Riflettori accesi a San Siro. Il Milan di Inzaghi, tra l'altro sua vecchia conoscenza, perché Inzaghi nella seconda finale di Champions Milan-Liverpool fu determinante. Vuole prendersi una rivincita domani sera con Pippo? Sì, ho pensato tanto perché lui era un calciatore. Io penso sempre più alla squadra che noi singoli, ma chiaramente per me vincere ogni partita è una sfida, e farlo contro un allenatore che ha fatto benissimo come calciatore è una squadra del livello del Milan, sempre è una sfida ancora di più. Il Milan di Inzaghi gioca spesso col falso 9, adesso va molto di moda, lei però è spagnolo quindi non devo neanche dirle di cosa stiamo parlando. È un modulo che potrebbe creare dei problemi alla sua difesa? Io credo che al di là del modulo, loro sono una squadra che hanno tanta qualità. La fase e la difesa hanno struttura fisica, hanno gamba, il centrocampo hanno qualità, hanno gamba lo stesso, e in attacco hanno il falso 9, o 9, 9? 9? Eh no, io non hablo spagnolo. Il falso 9 con gli altri giocatori che hanno tutti velocità e abilità. Credo che al di là del modulo è la qualità dei singoli che può fare la differenza e può essere un problema per noi. Sembrerebbe, sembrerebbe che Torres non sarà della partita, lei lo conosce bene, addirittura qualcuno dice possa addirittura tornare a Liverpool. Chissà che un giorno invece non venga al Napoli, magari visto che lei lo conosce. Non è facile questo del Liverpool. Torres è un giocatore di massimo livello, e è vero che con noi lo ha fatto bene. A Liverpool ha fatto 33 retti, dopo 22, anche al Chelsea con noi ha fatto 22 retti. Credo che questo dice tutto della qualità del giocatore che ha bisogno di fiducia, e per me è un giocatore che è di massimo livello e che può fare le differenze in qualsiasi squadra. Mister, guardavo alle possibili soluzioni, no? In questo Milan-Napoli. Kayekon e Mertens sugli esterni, laddove, siccome gli mancheranno Abate e De Sciglio, dovrebbe trovare da una parte Bonera, dall'altra Armero. Chiederà ai suoi due attaccanti esterni di puntare l'uomo, di andare a cercare la superiorità numerica per provare a far male al Milan. È lì dove dovrà provare il Napoli a far male. Sì, al di là dei giocatori che può giocare anche il Ramì, come ha fatto una partita del terzino destro, loro hanno la qualità e la fase difensiva, ma questi giocatori che non giocano hanno esperienza per farlo bene. Ma è certo che noi siamo forti nella fascia e tutti e due devono puntare, devono attaccare la profondità e devono cercare di creare problemi al Milan nella fascia. E poi, naturalmente, c'è il Pipita Higuain. L'anno scorso fece un gol. Io credo uno dei gol più belli che abbiamo visto nella passata stagione. Sì, Gonzalo si gioca perché Duvano lo sta facendo molto bene e credo che lui deve capire che è il giocatore più importante per noi, che lui è un giocatore che deve dare fiducia alla squadra, deve essere la bandiera della squadra e portare tutti dietro da lui. Non è una questione solo di dirlo, è una questione di farlo e lui può farlo e ha la capacità e ha la condizione fisica per farlo. Lei però ha fatto scena a Zapata. Ecco, Duvano Zapata, tre partite e tre gol. A Genova è entrato in corso, il Napoli era sotto, le ha fatto il gol del pari e lei aveva detto però Zapata deve sfruttare anche le occasioni quando gli darò fiducia facendolo partire dal primo minuto. È partito dal primo minuto in casa con l'Empoli e ha fatto gol, è partito titolare con lo Slovan e lei ha fatto gol. Mi sembra che stia crescendo davvero tanto. Sì, certo, perché lui ha bisogno di giocare per arrivare alla fine della partita con la stessa condizione fisica o brillantezza più o meno che quando inizia. Questo è il suo problema oggi perché chiaramente le manca giocare più partite di fila ma credo che è un'altra opportunità, un'altra possibilità per noi di cambiare l'attacco e fare in una maniera diversa perché lui è fortissimo di testa. So che non ama parlare delle sfide a venire però è chiaro che io una domanda devo fare, Rafa. Bisognerà fare attenzione ai cartellini gialli. In questo momento in diffida avete Albiol e Koulibaly. Chiaramente è un messaggio che trasferirà alla sua squadra perché comunque i gialli varranno anche in proiezione Supercoppa a Doha contro la Juve. Sì, abbiamo parlato di questo prima. Loro lo sanno che è importante. Chiaramente prima la partita anche se lo diciamo ma devono giocare la partita ancora abbiamo una partita al mezzo devono giocare la partita al 100% concentrati per farlo bene senza pensare oggi nel cartellino giallo. e a proposito di partita dopo il Milan giovedì ci sarà il Parma. Due gare di campionato prima del primo vero incontro di stagione di tutto il campionato italiano il primo trofeo la Supercoppa. Tra Milan e Parma farà turnover perché chiaramente deve dosare al meglio tutte le energie della rosa per quella gara? Il turnover quando diciamo così si fa soprattutto quando sono una partita ogni tre giorni quando sono quattro giorni si può gestire un po' meglio perché hai un giorno in più per recuperare la squadra. Credo che questa partita del Parma dobbiamo vedere come finisce la partita del Milan dal punto di vista fisico ma abbiamo tempo per fare una scelta giusta e dopo decidere lo stesso per la partita della Juve. Rafa è arrivato anche Riccardo Bigon magari avrà già il sentore che stavo per chiederle del mercato prima però del mercato io a volte litigo con gli ascoltatori perché? Perché dico di continuo che secondo me il Napoli che abbiamo visto in Napoli-Roma è in assoluto la squadra più forte del campionato in attenzione in intensità 2-0 ne poteva fare altri non ha fatto giocare la Roma quindi non solo ha fatto una partita pazzesca però devo farle una domanda Rafa perché io però non mi torno come è possibile che la squadra più forte del campionato poi dopo pareggia 3-3 col Palermo 3-3 col Cagliari 2-2 col Lempoli e non le ho messo il K.O. col Chievo cioè perché quella squadra non la vediamo anche in questa occasione? Sì ho detto in conferenza stampa che non è facile trovare il carattere la personalità la fiducia è una questione di risultati è una questione della caratteristica dei giocatori i giocatori che giocano più partite al massimo livello che sono abituati a vincere titoli titoli è più facile per loro mantenere questa continuità noi abbiamo qualcuno che sì che ha questa abitudine ma altri ancora no e credo che è una questione di capire prima queste partite l'importanza di ogni situazione che tre punti alla fine contano e ti danno più fiducia per lottare contro le squadre più forti anche perché Rafa a volte magari contro le tradizionali squadre piccole ci si lamenta del fatto che giocano molto chiuse in otto dietro la linea della palla e non si riesce a far gol no il Sonapoli i gol li fa col Palermo avanti 2 a 0 col Cagliari avanti 2 a 0 quindi è proprio quello che ci diceva lei la continuità la mentalità di capire che bisogna chiudere le partite chiudere le partite e gestire bene dopo la partita mi facevano una domanda tanto tempo fa credo che la prima partita con il Genoa vincendo avete ancora ripartito quando poteva gestire la palla io voglio fare un altro gol essere sicuro che la partita si chiude quando facciamo il secondo dobbiamo fare il terzo ma senza sbilanciare la squadra questo lo sappiamo tutti e ancora lavoriamo per trovare questo equilibrio me la dice una cosa Benitez prima di parlare di mercato se il Napoli vince a Genova con il Genoa dicono vabbè ma ha vinto al 93 se invece perde la Juve a Genoa sembrerebbe quasi normale se il Napoli si permette di vincere a Sassuolo 1-0 ma ha vinto solo 1-0 poi però il Sassuolo va a fermare la Roma e trova il pareggio al 93 ma perché dal suo Napoli bisogna che vinca tutte le partite 7-0 mi faccia capire il nostro Napoli si vede che quando fa un po' in pressa sembra che è normale e quando non lo fa bene tutti iniziano a sparare credo che tu lo hai detto io l'ho capito che qualche squadra più favorevole le critiche noi siamo sempre sotto l'occhio ma credo che dobbiamo capire che così e dobbiamo anche farlo meglio perché il Napoli addirittura si è permesso di vincere a Firenze con la Fiorentina invece la Juve ci ha pareggiato a Firenze con la Fiorentina quindi è davvero incredibile di lei il rammarico per quei punti buttati via aspetta che sto ascoltando Riccardo riccardo è al telefono tre acquisti abbiamo fatto tre quanti dice no tre uno Bigon ha detto pubblicamente che lo farete ma d'altronde purtroppo l'infortunio di Insigne lo impone le faccio una domanda trappola lei la conosce la trappola siccome spesso in conferenza ci dice dei detti spagnoli carini avete fuori Insigne e Miciu Gabbiadini nasce prima punta ma fa anche l'esterno potreste prenderlo per prendere due piccioni con una sola fava sì ho capito sì chiaramente credo che adesso sul serio con Riccardo parliamo tante volte di giocatori che possono fare due ruoli perché così è più facile gestire durante la partita cambiare un giocatore senza cambiare il modulo cambiare tutto e credo che se parliamo di un giocatore come Gabbiadini che non è il nostro giocatore che ancora è un giocatore di un'altra squadra ha la qualità ma non posso dire troppo fino a che qualcosa si concluda credo che dobbiamo aspettare un po' beh certo anche perché Bigon e il presidente dell'Aurentis sono a lavoro sentivo Oscar Damiani che è un ex giocatore del Napoli se il Napoli prende Gabbiadini prende il top in assoluto che c'è e sarebbe il miglior colpo di mercato della stagione perché anche qui vedo che in altre squadre comprano giocatori normali e sembra che abbiano preso i fenomeni se il Napoli dovesse prendere Gabbiadini sembra che sta prendendo l'ultimo arrivato e questa cosa a Strinic le piace? Chi è Strinic? Non ti sento bene è un esterno sinistro è caduto il collegamento no vabbè glielo dico è un esterno sinistro del Dnipro ma non ti sento bene troppo trovare però Gabbiadini gli ho chiesto Strinic gli ho chiesto ha detto che Bigon ne prende tre e il terzo mi sfugge un'idea ce l'avrei? No ero scherzando sai che noi lavoriamo piano piano e credo che dobbiamo prima come tu hai detto vedere bene la squadra come reagisce queste partite e siamo capaci di farla giocare al livello che sappiamo che può giocare e dopo guardiamo il mercato e naturalmente al mercato ci pensa Bigon ci pensa la società mister sa che cosa le chiedono i tifosi del Napoli? un grande regalo di Natale sappiamo sicuro che regalo vogliono loro in che data? lo vogliono il 22 da Doha il 22 è il giorno che si fa la lotteria spagnola il sorteggio della lotteria si chiama più importante in Spagna il 22 e allora visto che la lotteria si vince prende il premio grosso la lotteria grande qui la facciamo al 6 gennaio il giorno della Befana e allora mister in chiusura il Napoli vuol vincerla quella lotteria perché il fascino perché la Juve e perché il primo trofeo della stagione sperando che poi non dicano che è una coppa cioè se dovesse vincere il Napoli sperando che non dicano e vabbè ma è una coppa no? sì chiaramente è un trofeo e contro una squadra di massimo livello e per noi sarà una sfida importante sicuro Rafa io le auguro buon lavoro ci vediamo prossima settimana e naturalmente buon mila a Napoli grazie Rafa Benitez un abbasso grazie